Tre giorni da passare sull'antico cammino che i pellegrini percorrevano nel Medioevo per attraversare la Toscana ed arrivare a Roma sulla Cassia Vetus. Presentata al Museo Leonardo e Laretino l'edizione 2017 del Cammino della Sette Ponti, che partirà da Reggello il 9 di giugno per giungere a Ponte Buriano domenica 11. 60 chilometri circa per visitare rigorosamente a piedi pievi, borghi, oasi ed i famosi paesaggi che hanno ispirato Masaccio e Leonardo da Vinci. Ha due aspetti, uno sociale e uno paesaggistico e culturale. Quello sociale è l'idea di far stare comunità in cammino assieme. Succedono delle cose magnifiche quando delle persone stanno tutto un giorno in luoghi possibilmente tranquilli a camminare perché ci si contamina, ci si raccontano le cose e si può incrociare culture e storie. Se questo riusciamo a farlo con i cittadini che risiedono in questa terra magnifica, ma anche con i turisti, ma anche per esempio con i migranti che in questa zona hanno presenze molto significative. Insomma, se riusciamo a far stare assieme le persone è una bellissima esperienza. E poi vi è un'idea paesaggistica e culturale che è quella di poter valorizzare questi 50 chilometri che partano dalla pieve di Cascia al Reggello dove c'è un dipinto del primo Masaccio per arrivare al Ponte Aburiano dove c'è profonde intrecci di Leonardo da Vinci e nel mezzo le pievi come quella Monumento Nazionale di Gropina, come quella di Piandisco o di Castelfranco, le balze. Insomma, un paesaggio veramente fantastico. 50 chilometri di questa bella Toscana che sono forse tra i più belli.